Buongiorno ragazzi io sono cd di te e oggi vi do il benissimo episodio di minecraft ok ragazzi bentornati su questo titolo oggi su questo piccolissimo video sarà abbastanza corto ovviamente di non fare né corruzione né di andare in viaggio poi se mai tempo andrò in viaggio da quanto tempo non lo faccio sto titolo io sono andato molto avanti e in questo video volevo farvi vedere a telecamera esperienza cosa ho fatto in tutti i video perché ho fatto una marea di video su fortnite quasi 5 su fortnite anzi scusate ragazzi tutti su fortnite tutti i 10 o 8 no tutto beh comunque su fortnite il nuovo gioco che avete visto su instagram che nuovo gioco è fifa mobile su instagram tramite la nuova calda realizzazione secondo seguitemi perché a quando appena ricomincerò a fare i video sera sono ok i mob voi non siete nei passi né i mob sono ecologo a ricordare come sempre comunque appena ricomincerò vedete subito mai e fortnite poi minecraft e infine fifa mobile che però per me è domani per voi non sarò quando lo pubblicherò anche poi sarà domani penso non lo so comunque cosa ho fatto nel magazzino ho aggiunto i cartelli materiali della costruzione cibo decorazione troppo mob ostili armi ed armature di riserva i minerali e natura cosa vuol dire la matematica della costruzione queste casse sono materiale così per costruire quindi il legno il ciotolo eccetera il cibo è quello che deve mangiare perché questo non ce l'ho ok sono tipo il pane la biste calamele eccetera e decorazioni crafting table porte torce fiori eccetera troppo ma postili quello che lasciano i zombie i creeper i ragni gli scheletri e tanti altri mob del nether e anche del land e anche del leader e anche del leader cosa eccetera ferro e possa armi ed armature di riserva a diesel alle ami ed armature del costo di riserva e quelle che io ho già utilizzato e che in momento non mi servono oppure quelle che sono in più poi vedete certamente poi minerali con quello che quindi carbone ferro rame diamante eccetera natura si ama ecco fiori non internazioni anche se però bene la natura cometto tutto quello che fa dell'orto ok non può essere costruzioni così faccio io acqua ho messo la diorite scusate un tocco niente terra granito ciotolo a sede di bitulla sabbia e pietra la pizza l'ho fatta per fare questo lavoro qua ma per fare altre cose che adesso non mi ricordo più perché ho tutta pietra ma mi confondo con un altro mondo e poi qua gli assi di quercia nel cibo ho su qua le bistecche per adesso decorazioni ho messo torce la lana grigia cassa e porte caution table e bastoni poi troviamo postili corde carne guasta ossa e occhi di ragno quasi che trasporto con occhi di ragno e lo metto qua perché magari quasi qualcos'altro no perché ho fatto un casino ok prima tempo fa armi ed amato di riserva ho messo qua gli archi il tre dente che mi servirà più avanti può essere toccato col dito il microfono ok e poi l'ascia e la pala che dovrei utilizzare ma in questo momento non mi servono minerali rame grezzo il rame ecco qua che ho sbagliato ecco qua che ho sbagliato tutto poi il rame normale perché volevo trasformarlo è ovviamente non perché non per altro è quindi rame è l'ingotto di rame e rame grezzo ok poi i lapislazzoli pietra rossa carbone e pietra focaglia pietra focaglia ma non è un perché fatto un errore clamoroso e non è un minerale sì invece è un minerale perché si trova nella ghiaia c'è meno anch'io non lo direi come materiale per minerale però mia sorella che gioca a Minecraft è molto forte in Minecraft 15 quindi sì in Minecraft è più forte quindi che forza natura per adesso ho messo la boccia di quercia e i semi di grano c'è stato appena un tuono fuori e spero che non so se la corrente come voi voi tanto la cellulare però c'è la rec poi nella in questa cassa qua sono tutte le cose che non c'entrano in tutte queste cose qua categorie e quindi sacca di inchiostro poi con la bocchia di Natullio traghetta del traghetta nome cuoio disco musica C41813 e tinta tinta rossa poi come sempre ho visto dovreste aver visto Minecraft che si è aggiornato con la posizione che si tratta più in basso a posto anche sotto i cuori e l'armatura e poi non so però ho messo da parte al al cibo ok che dovrebbe esserci e lo so perché l'ho visto a volte il caricamento come quando c'è successo Minecraft ps4 xbox one xboxer xs pc ma c'è anche qua su cellulare e il simbolo di caricamento e poi qua così sì e su qua ragazzi corro ho messo la miniatura quando shift si vede che ok adesso ragazzi prima che esco ora mettiamo alba così tutti i mob spariscono il meteo sereno quindi ragazzi adesso esco fuori vi faccio vedere un po tutto faccio prima a mettere nel giorno faccio sempre qua perchè vuoi che vi spiego di tutto ok e qua ho messo ehm magazzino calcio 17 e qua in casa vi siete già visto che qua l'ho già lavorato da tempo fa fornace e cazzo in tempo a letto rosso adesso ragazzi il video sarebbe gioco di chi lo finisca il video perchè è generato abbastanza ok adesso ragazzi dovrei ragazzi facciamo una corsetta per la piglia l'esperienza che la vorrei che la volevo avere ok così insomma nessun mob mi colpisce su un andegato mi colpisce adesso prima di racconta una storia abbastanza interessante io ah anche qua invece la fornace è cambiata prima è sotto schema di più adesso è impesso da questo qua è anche un po più grande messo piatto in table non è cambiata entro ragazzi io adesso ogni volta che faccio le case su minecraft non solo su ciudad ma anche su playstation 4 ok è sempre un po' che ti dice ragazzi è sempre questa qua tutte le case che riesco a fare li trovo sempre vicino all'acqua a un mare boh non so perché comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è venuto ragazzi mi è raccomandato un bel mi piace commentate e condividete iscrivetevi al canale attivate la campanina seguitemi su instagram che oggi la cd di sede tra basso y sede tra basso off e ragazzi un po' che noi e lo vostro cd siete e tutto bella ragazzoli ciao